Ciao, vuoi conoscere un sistema efficace, intelligente e moderno per migliorare l'efficacia delle tue ore di studio, soprattutto delle tue sessioni singole di studio? Ciao, io sono Ruggero Pazzaglia, il creatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente e oggi voglio condividere con te appunto un paio di strumenti intelligenti che ci vengono forniti dalla tecnologia digitale. Ok, ti parlerò di due o tre app che potresti usare in maniera efficace per studiare qualsiasi argomento di tecnica, soprattutto quelli che riguardano i fondamentali e per cui quelli che richiedono una tipologia di studio, di pratica giornaliera costante in un determinato periodo di tempo e che ha bisogno di una curva di apprendimento particolare. Infatti, adesso ti faccio vedere una tabella che io usavo quando ero studente, usavo farla su un semplice foglio di carta a quadretti, con la riga mi faceva una tabella. Oggi puoi usare questo sistema qua. Ok, ti faccio vedere questo sistema. Ecco, ti fai un documento di Word, te lo fornisco io nelle descrizioni del video, ok, ti fai un documento di Word o di Pages, quello che vuoi tu, e in questo modo puoi tenere organizzato per esempio il corso dei polsi. Ok, se hai già acquistato questo corso, all'interno c'è questa practice tab, si chiama. Non è altro che una tabella fatta con Word, dove tu puoi mettere sulla colonne l'esercizio che fai, scusami, sulle righe, dove tu puoi mettere sulle righe l'esercizio che fai, come vedi qua la unit 1 e il nome dell'esercizio, e sulle colonne vai a mettere i BPM. Ok, questo è il BPM iniziale che io fornisco, ma tu puoi modificare questo documento mettendo qua su l'argomento che stai studiando che vuoi tu e poi qua sostituisci i nomi degli esercizi e i BPM. Ok, come gestire l'incremento dei BPM? Ok, e questa è un po' la domanda che mi viene rivolta più spesso. Quanto incrementare ogni volta che incremento, riparto dal punto dove mi sono fermato, oppure faccio un sistema diverso? Ok, adesso voglio farti vedere una cosa che si chiama curva di apprendimento ed è una curva che tu puoi avere graficamente usando un software gratuito che si chiama GeoGebra. Ok, ti fornirò anche qui nella descrizione del video il link per scaricarlo, è un software gratuito e io ti fornirò questo documento che appare così. Allora, non farti spaventare, non è una roba da ingegneri, da scienziati, perché io non sono né un ingegnere né uno scienziato. L'asse orizzontale riporta i giorni, ok? Siccome i corsi che trovi all'interno del portale del Drum Booster sono organizzati in settimane, cioè ogni settimana ti viene rilasciata una unit, nel caso del corso polsi sono 12 unit, cioè 12 settimane, cioè in giorni sono 70-84 più l'ultima settimana, perché l'ottantaquattresimo giorno da inizio alla settimana 12, ok? Quindi sono 91 giorni. Ecco, questo, quest'asse orizzontale, vedi, mi dice 91 giorni. Vedi, 90 e questa è leggermente più avanti, 91. Mentre l'asse verticale mi dà i BPM, quindi parto, in questo caso ipotesi, da 80 e finisco a 160, ok? Nel caso della practice tab partiva da 35, giusto? Riprendo un attimo, ecco qua. Parte da 35 e decido io dove portarlo. Ok? Quindi questo punto P6 che trovi, vedi che mi dice 80. 0,15 è l'asse 0,15, dovrebbe essere 0. Lo modifico io, guarda, faccio 0. Perfetto, quindi è proprio attaccato al punto 0. Quindi io inizio a studiare è 80. Voglio cambiare a 35, ho detto, che parto, e qua scriverò 35. In pratica clicco due volte su questo campo e scrivo 35. Guarda cosa succede, eccolo qua. Si è spostato a 35. Il punto finale, questo P0, vedi qua mi dice 91, si è evidenziato questo, vedi? P0, 91, sarebbe il novantunesimo giorno. Virgola 5, lo cambiamo. Dove è andato? 91,5, togliamo il virgola 5, cancello, 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 cancello. E invece che farlo finire a 160 lo faccio finire a 35, gli do un incremento di, lo porto a 35 più 50, 60 punti, fa 90. Ok, lo porto a 90. Cancello e scrivo, cancello tutto, guarda, anche tutto dopo la virgola, qualsiasi cosa, e scrivo 90. Ok? 90. Ecco, guarda cosa è successo. Questa curva si è completamente deformata. Ok? La risistemo prendendo questi punti qui, P3 e P5, e li riporto giù. Ok? Qua giù. Ok. P3, questo mi determina l'impennata, adesso ne parliamo, scendo qua, scendo, scendo, perché devo scendere sotto al punto, ok? Non devo andare sopra a 95, devo scendere. Ok, scendo, 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 ecco, più o meno potrei avere questa forma. Adesso vediamo come sistemarla, perché qua è sceso, ma adesso ti faccio vedere tutto per benino, ok? Allora, perché ha questa forma a essa allungata? Perché quando inizio una nuova serie di esercizi che io non conosco e quindi non ho ancora la memoria motoria per eseguire questi esercizi, ho bisogno all'inizio di praticare alla stessa velocità, molto lenta, per parecchi giorni, perché devo, prima che cercare la velocità, quindi la prestazione sui BPM, l'incremento, devo cercare di memorizzare i movimenti. Per memorizzare i movimenti io mi fisso a, in questo caso, 35, magari ci sto una settimana. Tutti i giorni sto a 35 per una settimana. Quando vedo che riesco a fare l'esercizio a 35 in maniera rilassata, cioè senza sforzo, con uno sforzo veramente minimo, allora incremento. Ai miei tempi, quando non c'erano questi strumenti, si incrementava, che non so, un punto al giorno, decidevo che dovevo portare questo esercizio da 35 a 90 in 90 giorni, ipotesi, dividevo la differenza, 90-35 fa, 90-35 fa 55 e magari lo dividevo per i giorni, dicevo magari in 55 giorni un punto al giorno, ma l'incremento che avrei un punto al giorno sarebbe una linea retta, obliqua. Questo in realtà non funziona perché all'inizio incrementi un punto e ti annoi anche, perché magari hai trovato la memoria motoria per farlo e un punto nemmeno lo senti. Però arriva a un certo momento dove incrementare un punto è un sacrificio. Quando sei al tuo limite, ok, hai ipotesi, mettiamo che il tuo limite è 90, appunto è 90, a 90 ci arrivi proprio con le mani che ti fanno male, ok, che senti dolore. Se tu incrementi da 80-90 un punto al giorno è un problema, perché rischi di farti male, ok? Invece quello che dovresti fare è appunto usare questo tipo di curva, dove all'inizio metti a posto la memoria motore, poi cominci a fare un incremento, trovi un punto a metà, e questo lo si fa sperimentando, non c'è una formula magica, trovi il punto giusto e poi l'incremento non è più uguale a questa salita, ma come vedi l'incremento è, invece che essere magari due punti al giorno, diventa un punto, un punto e mezzo, fino ad arrivare incrementi molto ridotti, perché ti stai avvicinando al tuo limite massimo. Adesso sistemiamo questa curva, perché vedi che scende qua, come faccio a vedere che scende? Ok, qui ho un punto che si chiama A, ok, se io lo porto all'inizio, guarda, vedi lassù in alto qui, A mi dà 35, 0 è il giorno, 35 è il BPM. Ok, se io mi sposto in avanti, vedi, giorno 1, 35, 0, 6, sto incrementando, non dovrei, 35, poi qua purtroppo c'è un errore, vedi scende 33, perché? Perché devo prendere questo punto e tirarlo su. Ecco, scusami, la curva giusta è questa. Ok, posso zoomare con la rotella del mouse, credo che si possa fare, io lo faccio così, ok, zoomo il punto e vedi che qua scendo, sono sceso a 34, non è possibile, non posso scendere. Ok, 35. Prendendo questo punto P3, che è il punto di flessione della curva, io sistemo, vedi, guarda che succede, sistemo il tipo di incremento, posso farlo più morbido, cioè meno violento, in questo modo, ok, oppure farlo più violento così, cioè stare più tempo su una velocità perché magari ancora non la prendo e poi avere degli incrementi più sostenuti, tipo dopo un mese, ecco, mi metto qua a 30, ho incrementato 7 punti e magari invece da 30 a 36, quindi una settimana, ho incrementato 2 punti, ci ho messo 30 giorni per incrementare 7 punti e adesso una settimana ne ho incrementati 2, 3, ok, 40, ok, qui poi un'impennata, poi qua arrivo al mio picco e l'incremento comincia a essere meno, come dire, meno forte, prendo il punto B che parte da dove si ferma il punto A, ok, vedi, lo trovo qua, sono al giorno 46 e sono a 63, spostando il punto B, sono arrivato a studiare al giorno 48, mi posiziono su 48 e lui mi dice di mettere il metronomo a 69, ok, vado avanti, vado avanti fino a che arriverò all'ultimo giorno dove vedi che qua gli incrementi sono decimali, ok, con i metronomi moderni con le app si può fare, ok, quindi qua praticamente io sto sul mio punto di massimo sforzo e incremento in, da 66, quindi in 24 giorni incremento, guarda, da 66 sto a 86 di metronomo, ci metto 26 giorni per fare 4 punti, ma è giusto così, altrimenti ti spacchi i tendini, ok, l'altra domanda, che quindi, tornando prima di chiudere con questo grafico, adesso rimpiccionisco un po', ok, quello che tu devi fare è sistemare questa curva e lo sistemi prendendo, scusami, vedi, il punto A ti porta da zero al punto di flessione della prima parte è la curva, il punto B ti porta, se lo sposti, qua si ferma, dal punto di flessione fino alla fine, quindi hai due palline da spostare, questa per la prima metà, diciamo, diciamo che voglio mettere a metà questo punto, quindi fra il giorno zero e il giorno 91, ipotesi 90-45, al giorno 45 metto il punto di flessione, ok, questo P3, ecco, e ci sta, guarda, 45 metto il punto di flessione a metà strada, dove praticamente io comincio a diminuire la quantità di incremento del BPM, ok, se invece lo vuoi spostare, bene, lo sposti, lo sposti, non fa niente se adesso vedi la curva tutta storta, perché adesso la sistemo, vedi, prendo questo punto qua e in questo modo decido l'incremento della curva, quanto si impenna e quanto poi va a scendere, ok, facendo, spostando queste cose tu puoi sistemarti per benino tutto, eh, è una cosa che fai una volta sola ovviamente, cioè sperimentando ti accorgi, magari che qua non riesci ad avere, qua riesci a incrementare bene, non è un problema, allora sposta, 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 ok, sposta, poi te la sistemi tu strada facendo, può essere anche che tieni quella che ti do io, non è, non è, come si dice, non è scientifico e certo il mio sistema, tu devi trovarti un tuo sistema perché dipende da te, da quanto studi, da quanto tempo riesci a dedicare, da che età hai, da che flessibilità dei muscoli che usi hai, dei tendini, per cui te la dati una volta, ci fai un po' di esperimenti, poi magari usi sempre la stessa, ok, magari quando studi i piedi cambi curva perché i piedi sono arti diversi, devi partire in un altro modo, ok, quindi una volta che hai sistemato questo software, questa curva su questo software, te la salvi con il nome che vuoi tu, ti dai il nome, la salvo, salvo con nome, me la salvo, non lo so, polsi, me la metto qua, salva, scusa, formato, fai tutti, ah no, è qua, me la metto nel mio desktop, ok, e la chiamo, invece che learning curve 3, la chiamo learning curve polsi, 1.0.1, ok, e me la salvo sulla scrivania, ok, quindi fatto questo, la domanda che nasce spontanea è, oggi, al giorno 30, ipotesi, io mi trovo qua, al giorno 30, e sono a 35 BPM, ok, al giorno 31, che faccio, parto da 35? La domanda potrebbe essere, ma a freddo, se qui sono già al limite, a freddo, se io mi metto a 35, al giorno 31, 36, magari ho dei problemi, perché ieri 35 per me era il punto di massimo sforzo, e iniziare a freddo a 35, giustamente, è rischioso. Allora, cosa fare? In questo caso ci viene in aiuto un'applicazione che puoi scaricare per iPhone, iPad, credo anche, anzi sono sicuro, anche per Android, e si chiama, te la faccio vedere, Time Trainer, eccola qua, Time Trainer, ok, con questa applicazione, i è un'applicazione a pagamento, non è gratuita, ma costa una sciocchezza, costa un caffè, due caffè, adesso non mi ricordo se costa un euro e mezzo, due euro, dipende dallo store, comunque costa degli spiccioli, io non starei a guardare una spesa di un euro o due, per l'utilità che ha, che ora ti mostrerò. Quando tu schiacci il tasto Trainer, questo qua, si aprono degli scenari, ok, Trainer, e c'è uno Speedupper, vediamo se riesco a fartelo vedere, Speedupper, eccolo qua, la penultima riga in basso, questa, ok, io lo seleziono, Speedupper, faccio Edit e gli dico, me lo fai partire, Start Tempo e gli dico, sono arrivato, abbiamo detto, a 36, invece che partire a 36, parto magari tre o quattro punti indietro, anche 5, quindi parto da 30, ok, parto da 30 e lo uso come warm up per arrivare a 36, quindi lo metto a 30, così, ecco, 30, sezionato 30, Start Tempo, ok, Back, End Tempo e lo metto a 35, che è il mio punto, da cui 36, scusami, il punto da cui devo partire a studiare, quindi il mio warm up è una sorta di elastico, torno indietro per, adesso ti faccio vedere qual è la cosa bella, ecco, seleziono 36, 36, Back, c'è un cronometro, tipo in questo caso è settato su 3 minuti, quindi vuol dire che lui mi ci mette 3 minuti a raggiungere i 36 BPM partendo da 30, ok, per cui io parto da una velocità a cui io non ho problemi a fare l'esercizio che è 30, ma può essere 25, quello che vuoi tu, e in 3 minuti, 5 minuti, ecco, se io tocco, vedi, posso cambiare, 5 minuti, ok, e in 5 minuti arrivo riscaldandomi, quindi con un'accelerazione continua, da 30 a 36, quindi 6 punti in 5 minuti, manco te ne accorgi dell'incremento, ma arriverai dopo 5 minuti, dopo 5 minuti arriverai caldo e da lì puoi partire con la tua sessione di studio che magari durerà, tutto l'esercizio lo farai per 10 minuti, ok, non fare un esercizio in eterno, fanno per una quantità di tempo che hai stabilito in base al tempo che tu hai, ok, se tu hai un'ora di studio non puoi dedicare 50 minuti allo stesso esercizio, no, non studi nient'altro, suddividi la tua ora di studio per gli argomenti che hai e ipotesi per questo esercizio, unit, boh, siamo al giorno 30, quindi sarebbe unit 5, perché è 7 per 4, 28, quindi la quarta, la quinta unit, sei dentro la quinta unit, la unit 5, 6 a 36, nella practice tab ce l'hai scritto, fai un elastico, torni indietro di 5 punti per non spaccarti i tendini, in 5 minuti raggiungi, 3 minuti, quello che vuoi tu, raggiungi la velocità di partenza per andare avanti e fai l'esercizio per ipotesi, hai calcolato 5 minuti, ok, dedicherai 5 minuti all'esercizio della unit 5, specifico per quel giorno, ok, in questo modo eviterai di spaccarti le mani partendo a freddo alla velocità limite che avevi raggiunto, quindi nel giorno successivo, il giorno 31, 32, invece che 36 sarà 37, vuol dire che setterai questo tutto un punto più in su, parto da 31, ok, e arriverò a 37 e mi riscaldo per n minuti, magari 3 minuti va già bene, e poi per 5 minuti faccio l'esercizio, un giorno dopo c'è l'incremento, seguo quello che mi dice il grafico dell'applicazione GeoGebra e così vado avanti. In questo modo riuscirai a studiare in maniera efficace, ok, senza farti male, ottimizzando il tempo e l'energia. Mi sono dimenticato di dirti all'inizio che l'applicazione GeoGebra esiste anche per tablet e per telefono, per cui, riassumendo, puoi usare tre strumenti, uno è la Practice Tab, ritorno sullo schermo dall'altra parte, uno è la Practice Tab che è questa, che è un documento editabile, che sia Word o Pages o Word o Pages, non ne ho altri, te lo editi, metti tu qui le velocità, il titolo del corso, eccetera, l'esercizio e questa è la tua tabella di marcia, va bene? Poi, una volta che hai sistemato questa tabella, passi a GeoGebra, hai sistemato la curva strada facendo, perché magari il primo giorno 35 ti viene benissimo e allora via sull'incremento, andiamo subito su. Magari guarda che al giorno 2, magari sei già in difficoltà, allora scendi con questa curva, ok? Adesso per esempio se io ingrandisco così i giorni li vedo meglio, ecco, mi tengo visibile questo. Ok, questo incremento io potrei impennarlo, farlo impennare, spostando questo decido quanto farlo impennare, scusami non ho preso, vedi? Decido, fino a farlo diventare una retta se vuoi. Ok, dipende da te quanto vuoi stare all'inizio sulla velocità bassa che ti permette di crearti la memoria motore. Dopodiché cominci a incrementare, ok? Sposti il punto A e in base al giorno, vedi, giorno 17, 6 a 38, hai fatto, è vero che hai fatto 3 punti in 17 giorni, ma nei 17 giorni precedenti hai costruito la memoria motore e relax per incrementare. Ok, quando arriverai invece qua, qua avrai problemi a incrementare con lo stesso quantitativo di BPM, è per questo che la curva si addolcisce verso l'alto, ok? E avrai incrementi minori, decimali magari, perché sei al punto massimo di sforzo. Non è che uno può arrivare a velocità, capito, non so, parto da 30, metto 200. 200, magari se sei uno che ha già studiato prima potresti anche arrivarsi a 200 all'esercizio. Per cui ti consiglio, per esempio, di fare una prova e vedere nella condizione in cui tu sei attualmente qual è la velocità massima a cui riesci a fare l'esercizio, se prima di strapparti tutti i muscoli e settare il P0 a quella velocità, ok? Dopodiché sistemi questo andamento di questa curva, ok? Prendendo i punti e spostandoli come ti ho fatto vedere. Poi prendi il tuo bel time trainer, quello che ti ho fatto vedere prima. Sistemi tutto, ok? Ero arrivato qua. Sistemo, guarda. Enable 3 minuti, ok? Fatto, done, ok? Vado. Vedi? Parte da 30, lentissimo. E qui vedrai, con lo scorrere del tempo, vedrai che diventerà 31, perché lui suddivide i 3 minuti, i 5 minuti, adesso non mi ricordo a quanto l'abbiamo settati. L'incremento da 30 a 36, 6 punti in 5 minuti, vuol dire che prima che scala un punto, 6 volti già. Ok? Tutto qua. Ovviamente qua potrei mettere, se è 4 quarti, 3 quarti, comunque gioca un po' con quest'app, non è difficilissima da usare. Va benissimo anche per i chitarristi, perché ha anche delle funzioni sulle tonalità per permettere agli strumenti intonati di studiare anche sulle tonalità. A noi interessa la parte metronomica. Ok? Per questo video è tutto, per oggi è tutto. Ricapitolando velocemente, ti ho fornito tre strumenti intelligenti, ok, per ottimizzare lo studio. Oggi, nel 2018, non si può più studiare senza avere una pianificazione dettagliata dello studio, altrimenti perderesti un sacco di tempo che non hai, tra l'altro. Per cui ti consiglio di usare questi strumenti che sono gratuiti, tranne l'app che costa veramente una sciocchezza, e cominciare a settare la tua tabella di marcia per lo studio, per la pratica, soprattutto di esercizi ripetitivi, quelli che costruiscono la memoria motoria. Sto parlando dei fondamentali, colpi singoli, colpi doppi, il controllo del passaggio fra tecniche e singoli, dei doppi, lo studio dei piedi, ok? Non sto parlando di suonare una canzone, sto parlando di esercizi di meccanica, dove è importante costruire la memoria motoria e avere una buona, se non ottima, velocità di esecuzione senza farsi male. Tutto dipende da età, quanto studi, come ti alimenti, come ti alleni, che sono cose di cui parleremo in altri video. Per oggi è tutto. Ricordati, se trovi questo video interessante, metti un like se lo trovi su Facebook, o iscriviti al canale YouTube se lo stai guardando su YouTube, ok? Oppure iscriviti al blog se lo stai guardando dal blog. Insomma, fai queste azioni necessarie per rimanere connesso a me, perché farò altri video su questi argomenti, per cui se ti interessa approfondire questo argomento, resta connesso con me facendo queste azioni. Iscriviti al canale YouTube, metti il like alla pagina Facebook, The Drum Booster, strumenti per il battagista intelligente, iscriviti al gruppo, segui il blog che trovi all'interno del portale TheDrumBooster.com e riceverai le notifiche ogni volta che io pubblicherò un nuovo contenuto. Se lo trovi interessante anche per qualche tuo collega amico, mi faresti un grande favore se glielo segnalassi. In realtà gli stai facendo un favore tu a lui, più che tu a me. Però decidi tu. Secondo me è una buona azione far vedere questo sistema a qualche tuo collega, anche non batterista. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Ruggero. Ciao!